Una multa da un miliardo di euro per abuso di posizione dominante, stangata della Commissione Europea contro Qualcomm, società statunitense attiva nei semiconduttori e nelle apparecchiature per telecomunicazioni. L'antitrust comunitario ha punito il pagamento di miliardi di dollari alla Apple per fare in modo che non acquistasse le schede madri dai rivali. Qualcomm ha consolidato la sua posizione illegalmente tenendo fuori i rivali dal mercato per oltre 5 anni. Tra il 2011 e il 2016 Qualcomm ha pagato miliardi di dollari a un cliente chiave, la Apple. Secondo Bruxelles, Qualcomm ha privato i consumatori e le altre imprese dei vantaggi di una concorrenza efficace, in particolare sul versante di una maggiore innovazione.